Cresce in provincia di Teramo il numero dei comuni che entrano a far parte della zona rossa alleggerita prevista dalla regione Abruzzo. Dopo Roseto, Pineto, Silvi e Tortoleto entrano da oggi a farne parte i comuni di Nereto, Martinsicuro, Morrodore e Colonnella. Alla base del provvedimento c'è la relazione dell'ASA di Teramo che ha proposto misure restrittive per i territori in questione, visti i numeri allarmanti degli ultimi giorni. A Colonnella c'è stato un incremento significativo dei contagi, il virus ha colpito famiglie intera abbassando anche la media delle età dei positivi. Beh, era un po' nell'aria in questi giorni, abbiamo avuto un forte incremento di contagiati, già da domenica mattina io ho fatto anche un video che ho diffuso, effettivamente la situazione è cresciuta ulteriormente negli ultimi giorni e quindi la regione ha inteso metterci in zona rossa. Ovviamente è quella che preoccupa di più la questione della variante. Beh sì, abbiamo capito che molti sono stati contagiati ma non sanno come hanno preso il Covid e questo diciamo è preoccupante. In più si è abbassato un po' l'età dei contagiati rispetto a prima, diciamo che ci sono anche dei ragazzini che in effetti prima non venivano facilmente contagiati e con questa variante invece sono molto vulnerabili rispetto alla precedente. Io invito veramente nuovamente tutti a rispettare le normative, a rispettare il distanziamento sociale, tenere la mascherina, fare in modo di uscire proprio quando è necessario uscire, contattare gli altri quando è proprio necessario perché purtroppo negli ultimi giorni ho visto che le persone si sono un po' messe troppo in libertà, si hanno contattato amici, parenti eccetera. Dobbiamo fare altri sacrifici nei prossimi giorni, nei prossimi 15 o almeno 20 giorni per poi rientrare un po' piano piano nei limiti dell'accettabilità. In un momento così difficile c'è tanto lavoro da parte dei primi cittadini che sono assolutamente in prima linea sul territorio. Ma guardi, effettivamente questo anno ci ha messi tutta dura prova, i sindaci sono purtroppo l'avamposto sul territorio delle autorità e quindi noi dobbiamo essere sempre presenti e sempre a disposizione. Del resto questo è un servizio che facciamo al cittadino, nessuno ci ha obbligato a fare i sindaci, nel momento in cui abbiamo accettato questa carica dobbiamo fare il nostro dovere.